Ciao a tutti ragazzi e ragazze, questo video è brevissimo per Youtube soltanto per dirvi che domani, cioè 13 sabato di giugno a Roma farò il mio primo raduno per i 2000 iscritti sarà tipo un mini speciale diciamo a Roma, che è di Roma assolutamente devi venire a Roma Est, a Roma Est, a Roma Est, a Roma Est davanti al cinema quindi domani alle 14, alle 2 del pomeriggio alle 14, alle 14 in punto a Roma, al centro commerciale Roma Est davanti al cinema portate tanti barbapapà, tanti regali, tante lettere tanti pacchettini, tanti tipi questions tante cose e niente ragazzi mi raccomando venite domani, ore 14 cioè 2 del pomeriggio Roma Est, chi è di Roma devi venire subito a Roma Est, il centro commerciale so che tutti quanti lo conoscete, spero, credo lo so e davanti al cinema di Roma Est e niente ragazzi managgio barbapapà e noi ci vediamo domani ave e